Edgium Veneto presenta l'evento finale del progetto Senza c'è più gusto. Glutine, latte, uova, lievito, frutti a guscio sono veramente nemici del gusto. E' proprio necessario per le persone intolleranti o allergiche rinunciare a un buon dolce. Le lievi pasticceri della scuola alberghiere di Tonezza dimostreranno come sia possibile ritrovare il piacere di gustare di buoni dolci soddisfando il proprio palato. Ti aspettiamo perciò domenica 26 aprile ore 18.30 presso il ristorante da Bellpino a Schio per scoprire il dolce che più ti piace. Grazie per la visione!